Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma, code tra Firenze Impruneta e Firenze Sud e code in uscita a Firenze Sud. Ricordiamo che fino al 18 giugno è chiuso il tratto della panoramica tra la variante di Valico e Aglio per lavori. In A11 in direzione Firenze, code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Beretola e rallentamenti tra Prato Ovest e Il Bivio per la 1. Sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e l'Allacciamento per la 1. Sull'accordo Siena-Bettolle scambio di carreggiata per lavori tra Rigo Magno e Sinalunga e San Gimignanello in direzione Siena. A Firenze da oggi si svolge pitti, immagine, previsti, provvedimenti e modifiche alla circolazione. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!